Buon po', buon po', bello, signora c'è il telefonino? Sì, iphone, è qua pure. La luce del display li devi far aumentare, se no lo prendo. Segnate il GN, guarda, 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 guarda. Viene, 46. Vai prima. Sì. Cosa? Ok. Guarda, 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 guarda. Dov'è? Telefon? Ok. Tata rompe. Ok. Napoli, Napoli, Napoli. Uno. E due. Ok? Allora, lei fa, ok? Tutte e due a posto. Dove li facciamo? Direttamente in fondo dove c'è il tendone. Allora, guarda, guarda, guarda. Non, 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 dai. Andiamo a chiara. E di più il seno. Ugande, vale, due a boi. Inolio. Un sardegra, guarda. È difficile. Penn, mettere, a trutta. Un sardegra, c'è qualcosa di più più lento. Quasciò, è il tendo? Un sardegra, diverso? Sì. Sì. Sì, guardiamo qui.